Il porto di Ripetta fu fatto edificare nel 1704 da Papa Clemente XI su progetto dell'architetto Alessandro Specchi utilizzando il travertino di un'arcata del Colosseo crollata per il terremoto. Il porto fu costruito nel 1704 per esigenze urbanistiche il porto scomparve gradualmente a partire dalla fine del XIX secolo a causa della costruzione dei muraglioni a difesa delle inondazioni di Roma. Progetto di ponte monumentale non realizzato per unire Ripetta con Prati. Il porto di tipo boromignano con una sprendita architettura e ripresa per la scagnata di Trinità di Monti si apriva scenograficamente ed inaspettatamente sul fiume con la sua sagoma ondulata tra le quinte delle case. Il porto di Ripetta era formato da due ampie cordonate con ripiani che mettevano in comunicazione le banchine con il piano stradale. Al centro era un piccolo emiciclo contornato da sedili e dall'estremità due colonne idrometriche. Nel mezzo dell'emiciclo si trovava una graziosa fontana scogliera con delfini fatta costruire da Papa Clemente XI al Bani nel 1704. Il porto serviva per le merci che arrivavano nella città di Roma dall'entroterra Umbro e Sabino. Le vicende del papato e dei suoi rapporti con Napoleone Bonaparte legano per sempre la storia di Savona con il Papa Pio VII che si trova prigioniero nelle città dal 1809 ai primi mesi del 1813. Ponte di Barche sul Tevera Ripetta per il ritorno di Pio VII 24 maggio 1814. Ponte di Ripetta verso la chiesa di San Rocco. Ponte di Ripetta visto dalla passeggiata di Ripetta. Lavori ampliamento sulla sponda destra del Tevere. Ponte di Ripetta 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 Ponte di Ripetta